A Cordovado sentiamo un'intervista circa gli eventi della cittadina, ovvero la macchina del tempo che ha riportato il Medioevo. Cordovado medievale, a Cordovado una domenica davvero unica che permette di ripercorrere la storia di questa realtà della provincia di Pordenone a due passi, del resto anche dal Veneto. Parliamo con lo stesso direttore artistico. Direttore, una domenica davvero importante ma che mette molto lavoro comunque alle spalle, è vero? Sì, assolutamente. Questa è la ventinovesima edizione. Il lavoro si fa di anno in anno e dall'anno scorso che io seguo la regia di questo evento le attività stanno increscendo. Abbiamo fatto diverse modifiche, abbiamo riconfermato alcuni gruppi artistici ma ci sono moltissime novità che partono dalla cena medievale che ci sarà il 5 settembre qui a Palazzo Cecchini e poi prenderanno vita nel borgo durante la domenica 7 che è la domenica del Palio con la sfilata storica. Una vera e propria kermesse che permette di ripercorrere un po' quella che è stata la storia poi di questa realtà di Cordovano. Sì, e non soltanto la storia. Quello che è il nostro obiettivo è quello di raccontare l'età medievale qui a livello locale, di insegnare, di educare tutti gli spettatori che vengono. Quindi con questo obiettivo abbiamo sviluppato da quest'anno il tema che è il tema della donna nel Medioevo che ci ha permesso di andare a scoprire tutte le figure femminili che ci sono state nelle loro sfaccettature sempre diverse.